bello a tutti ragazzi sono mattboy120 e bentornati su cute world e avventure di Krugel oddio 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 stavamo per cadere siamo qui in compagnia di Sid il gattino livello 2 e siamo su un'altura nelle lands of talion mi scuso se è da più di una settimana che non faccio video ma la settimana scorsa sono stato parecchio parecchio impegnato con la scuola nel senso ho avuto tre verifiche in tre giorni di fila che è stato particolarmente impegnativo lì c'è una mark interna e stiamo qui nella land of talion perché non sapevamo cosa fare nell'ultimo episodio e allora andremo qui vediamo che ovviamente qui c'è una valle andremo a vedere cosa sono quelle due spadine là in fondo se ando di non ammazzarci troppo fatti scenderemo da qui prenderemo la via facile e soprattutto dobbiamo ammazzare qualcosa allora come già detto nell'ultimo episodio taglierò dei pezzi quindi soprattutto i tragitti lunghi anche se potrebbero essere divertenti perché incontreremo varie robe ok bene allora io raccolgo questo fungo e stort flower e ci vediamo in prossimità di queste spadine signore e signori abbiamo trovato una talpa lì è da dove siamo partiti non ci ho messo molto però mi duele dover abbandonare prestosi il gatto ma è per un motivo migliore che fortuna aver trovato una talpa ci sarà molto utile nel prossimo dungeon ecco ugo la talpa ugo la talpa bene e ok visto che non ci siamo vicini quindi questo era un po' un punto molto importante della nostra avventura e così andiamo a quelle spadine ed eccoci qui ragazzi siamo molto vicini alle spadine e dato il luogo che noto ci sono due possibilità o è una foresta che si anche le foreste sono dungeon oppure è un sauriano oppure c'è un castello là dietro che non ho ancora visto e se è un sauriano un problema perché come vedete la talpa mena come non so cosa è un problema perché è un dinosauro gigante ok i dinosauri non siano giganti eh per l'amor del cielo però no potrebbe no è un castello guardate questo è solo un cestello ma proviamo ad attaccare quel gufo sì è un castello il che non so dire se è cosa buona o brutta guardate guardate chi vincerà guardate quanto danno che gli sta facendo bam distrutto e lui ovviamente recupera vita durante il tempo cioè praticamente subito dopo la battaglia recupera vita lì c'è un ognol un ognol solitario questa è una cosa buona distruggiamolo bene adesso andremo ad esplorare quel castello e soprattutto vedremo che strano nome ha tanto possiamo vedere che qui c'è un fiume molto lungo con delle galline in acqua apparentemente che sta seguendo da fino da lì è un fiume è il più grande fiume che io abbia mai visto in questo gioco è una cosa assurda e noi siamo qui dobbiamo arrivare sconfiggere il boss anche se siamo a livello 2 non so quanto sarà facile del un attimo che rivedo il nome perché non lo ricordo del Lugothar Palace dobbiamo sconfiggere il ruler che sarebbe il boss e quella è l'entrata e no non possiamo entrare dal finestre e se riusciamo ad avvicinarci un po' possiamo vedere anche dove si trova il ruler credo no 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 non possiamo comunque eliminiamo prima guardiamo un po' prima è un dungeon di umani di umani di umani uccidiamo questo Radish e la prossima cosa che faremo dopo questo dungeon che dobbiamo sconfiggere sarà tornare alla città perché ho scoperto che solo alla città possiamo cambiare classe cioè diventare tutti gli effetti guerrieri guardiani che è quello che vogliamo guardiamo prima dalle finestre nothing special ok qui c'è gente lì c'è uno che fa il giro lì c'è ancora più gente la tecnica in questi casi è di attirare i nemici di uno alla volta in un posto lontano per sconfiggerli lì c'è un po' lì c'è un po' lì c'è un po' contando che quelli sono lì sono più facili da attirare questi e sono qui ci vogliono dei calcoli per non morire c'è un warrior un arciere c'è un altro arciere cosa ci converebbe cercare di attirare quelli là in fondo senza perpare che ci hanno visti un mago un arciere che ci hanno visti no 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 oddio ci hanno visti tutti ok siamo morti siamo palesemente morti no no lasciate la faccia Luca si siamo morti bene che bello tanto non è grande cosa non abbiamo perso soldi o robe varie tanto che quelli lì i nostri nemici si sono ricaricati la vita ok e dobbiamo cercare di finirlo in fretta perchè i nemici che abbiamo ucciso quelli all'inizio potrebbero respawnare non sono tornati al loro posto e dobbiamo cercare di appunto di ucciderli ok ok allora c'è yang da tirare solo questi perchè lì c'è coi non so se è una buona idea fare questo ah è sotto di noi un attimo eh è lì quindi è un dungeon incavato nella montagna vedete quel teschio? quello è quello che dobbiamo uccidere potrebbe essere un problema potrebbe essere un problema anche perchè siamo appunto ancora di livello basso e non potremo fare dungeon ok ragazzi credo che per questo episodio possa finire qui abbiamo preso se volete come si può considerare un grande obiettivo aver trovato Ugo perchè ci aiuterà molto durante il corso delle nostre avventure e io se cado di qui muoio ti aiuterà molto nel corso delle nostre avventure e questo dungeon no questa è stata una buona idea salire qua sopra una perfettissima idea buonissima idea allora spero che il video vi sia piaciuto se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi video vi è piaciuto mettete un mi piace commentate guardate anche gli altri video le prossime serie e robe varie ciao a tutti e al prossimo video luita zum 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 dodo doO